Sono Sara Farsetti di Calderara di Reno, geometra. Posso star così? Sono Luca di Parma, operatore socio-sanitario. Sono Rosi. Sono Loredana di Forlì. Sono Edoardo di Cento. Educatrice e mamma. Sono Stefano di Forlì Popoli. Autista di Autobus. Dono Gennaro di Bologna. Operaio. Avvocato. Medico e nonno. Sono Lorena di Forlì. Di Modena. Davide di Bologna. Ferrara. Parma. Di Reggio Emilia. Di Modena. Castelnuovo Angone, agente di commercio. Il 26 di gennaio. Voto Lucia Borgonzoni. Voto Lucia Borgonzoni. L'Emilia Romagna è anche mia. 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 L'Emilia Romagna è anche nostra. È anche nostra. È anche nostra. Nostra e dei nostri figli. L'Emilia Romagna è anche nostra. L'Emilia Romagna è anche nostra. È anche nostra. L'Emilia Romagna è anche nostra. Scegli il buon governo della Lega, scegli il futuro, scegli Lucia Borgonzoni, presidente. Grazie a tutti.